Purtroppo nell'opinione comune la scienza è quella che produce i prodotti industriali a basso costo, che non fanno bene alla salute, che servono soltanto da arricchire chi li fa e a risparmiare che non è stata sulla martiria prima o sul processo di elaborazione. Però è scienza anche quella che ha portato a creare i grandi vini nell'Ottocento, è scienza quella che ci permette di migliorare un processo di produzione e renderlo più naturale o come va di moda dire adesso più biologico, è scienza tutto quello che studia come funziona la natura e come migliorarlo o renderlo in qualche modo più piacevole per l'uomo. Quindi è come al solito una questione di scelte, a un tempo si diceva che la scienza è neutra, lo scienziato non è neutro, la stessa cosa si può dire anche a livello gastronomico, la scienza in sé è neutra, poi dipende dall'uso che noi facciamo, qua stiamo cercando di insegnare a questi allievi e ad utilizzarla nel modo giusto e più piacevole sia per la salute che per il palato.